21 dipendenti amministrativi in carico alla SRR Ragusana dal dicembre 2017 sono in stato di agitazione dal mese di gennaio di quest'anno. I lavoratori ex autoambiente sono stati saldati dall'ente cessante, ma non hanno percepito la retribuzione dalla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti. A sottolineare lo stato di disagio vissuto dai lavoratori è il sindacato FIADEL che evidenzia come nonostante il Presidente del Collegio dei Liquidatori Giancarlo Cugnata abbia agito da traghettatore per i 21 lavoratori sin dal 2014 portando alla liquidazione del lato ambiente di Ragusa seppur avendo ancora in gestione la discarica di Cava dei Modicani, impianto non ancora acquisito dalla SRR, Società, sempre secondo quanto denuncia il sindacato, che non sta rispettando il rapporto con i lavoratori che devono ricevere gli stipendi relativi alle mensilità di dicembre, gennaio e febbraio. FIADEL, apprezzando gli sforzi notevoli del Presidente Cugnata per quanto riguarda l'azienda cessante del commissario per l'azienda subentrante, che sono riusciti a garantire i livelli occupazionali, si dice però fortemente preoccupato per il futuro. Il commissario regionale Nicola Russo, dall'accanto suo, si difende adebitando la responsabilità della mancanza delle somme destinate a pagare i lavoratori ai comuni che non versano da mesi, alcuni da anni, le quote spettante all'ente gestore degli impianti e dei servizi. I comuni che devono pagare le somme più elevate sono Vittoria, Modica, Scicle e Comiso, rispettivamente 94, 86, 60 e 53 mila euro. Il segretario provinciale della FIADEL ragusana, Giorgio Iabichella, di comune accordo con il segretario regionale Giuseppe Badagliacca, hanno chiesto al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti e al Governatore Musumeci di obbligare i comuni blei a versare le somme spettante alla SRR di Ragusa. Grazie.